buongiorno a tutti gli amici che seguono la voce di ortona ogni puntata ci fanno compagnia più di mille visualizzazioni siamo veramente tanti sinceramente all'inizio non ci aspettavamo così grande consenso che invece è arrivato il motivo è chiaro sono molte le persone che amano le radici la storia e la cultura di questo territorio un doveroso ringraziamento a tutti oggi raccontiamo ortona da un punto di vista insolito da un punto di vista particolare il punto di vista è quello di ortona e la musica perché secondo noi ortona una tradizione musicale la tradizione musicale di ortona consiste in questo alle feste di settembre era obbligatoria la presenza della banda nei tre giorni di festa ma non erano delle semplici bande venivano cercate con scrupolo le bande per celebrare le nostre feste e venivano delle bande che avevano un certo nome una certa rinomanza ed erano seguitissime erano avevano degli estimatori e tutti ci tenevano ad andare in piazza ad ascoltare il famoso pezzo d'opera e per molto tempo c'era anche la tradizione di ospitare a pranzo i bandisti i componenti di queste bande poi negli ultimi tempi le cose cambiano e allora le nuove generazioni hanno anche scelto orchestre di musica leggera per allietare le nostre feste però un giorno dedicata alla banda ci doveva essere e si è quasi selezionato da solo questo giorno praticamente ortona nelle feste di settembre accoglie la banda il 7 il 7 la festa di san rocco e comunque la banda riesce da il senso della festa no la banda ci sveglia la mattina delle feste fa il giro del paese porta la musica in tutte le case è veramente porta allegria da proprio il senso della festa e neanche nelle altre feste come a san generoso o a ferragosto c'è sempre la banda durante il giorno e volevo aggiungere una un'altra cosa carina nei tempi andati la mattina delle feste passava ciacciavit passava ciacciavit adesso io non ricordo chi lo accompagnava magari lo chiediamo a qualche amico di prima pagina che magari se lo ricorda e la mattina delle feste appena l'alba appunto usciva ciacciavit con il tamburo e quest'altra persona che adesso mi sfugge il nome facevano il giro del paese e portavano ancora la musica in mezzo a ortona e qualche tempo fa questa 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 tradizione questa cosa veramente molto molto carina e l'hanno riportata in auge tito crisi e americo eramo tito crisi con una gran cassa e e americo con il flauto e fu una piacevole sorpresa per tutti gli ortonesi insieme a alla tradizione della banda c'era anche c'è anche la tradizione del canto però ecco a ortona ci sono stati anche dei musicisti e dei musicisti che appunto hanno coltivato l'arte della musica e in modo particolare vogliamo ricordare una piccola orchestra ortonese si chiamava la vecchia ortona e appunto la vecchia ortona era costituita da un gruppo di amici che si riunivano e facevano musica insieme i componenti della vecchia ortona erano Alfredo Taglieri alla chitarra Nino Venti al mandolino e poi avevamo Egno Asci e Pasquale Silvagna alla batteria Filippo Taglieri al sassofono e Alfonso Rosati al clarinetto e ecco questo gruppo di amici si riunivano, facevano i loro esercizi, stavano insieme e coltivavano la loro passione insieme anche a Don Vincenzo e tante volte si riunivano appunto a casa di Don Vincenzo e hanno fatto anche delle uscite pubbliche nel senso che hanno aglietato anche diversi veglioni di Capodanno e altre piccole feste ortonesi e poi comunque abbiamo avuto anche altri musicisti che si dilettavano a suonare uno strumento, possiamo ricordare Americo Eramo con il flauto, non possiamo dimenticare assolutamente Osvaldo Taglieri con il suo violino Osvaldo era un violinista autodidatta e oggi insomma ricordiamo anche Piero, Piero Troiani che con il suo violino tante volte lo troviamo in chiesa da solo che suona ed è un'immagine molto bella quella di Piero perché appunto trovarlo in chiesa lui il suo violino e la sua musica è come se appunto nella sua musica ci fosse la preghiera poi vorrei anche ricordare il nostro amico Ernesto Silvagni che al pianoforte era veramente un genio era veramente bravissimo e comunque Ernesto continua a essere un grande stimatore di musica e poi per il resto sicuramente Pietro ha qualcosa da dire per quanto riguarda la musica e poi abbiamo nei tempi più recenti abbiamo anche avuto dei ragazzi che hanno fatto parte di diverse bande per esempio Paolo Taglieri e Gabriele Eramo che hanno suonato anche con la banda di Pescina poi abbiamo Paolo di Panfilo con la fisarmonica e anche Federico di Nicola e Cristian Taglieri con la fisarmonica poi ancora Michele Buccella con la sua tuba che fa parte della banda di Pescina e insomma ecco questa questa tradizione musicale a Ortona che continua ancora oggi con questi giovani ragazzi e appunto come dicevamo prima oltre a questa alla tradizione della musica c'è anche la tradizione del canto nel coro della chiesa c'è sempre stato il coro che accompagnava la liturgia e sin dal secolo scorso ci sono state tante ragazze ortonesi che si sono alternate si sono alternate nel coro della chiesa e hanno cantato anche sull'organo e il nostro prezioso organo che ultimamente è tornato in funzione grazie al restauro che è stato effettuato e appunto c'è anche questa tradizione del canto noi non ce lo ricordiamo però i componenti della dell'antica confraternita che poi alla fine degli anni negli anni 50 fu fu diciamo così chiusa fu resa dormiente ecco i componenti della confraternita si regavano in chiesa e cantavano l'uffizio alla madonna noi non ce li ricordiamo queste queste persone però dai racconti dei nostri genitori ci hanno detto che era veramente bello ascoltarli era emozionante erano tutte voci maschili era appunto questo questo modo di di rivolgersi al cielo con il canto poi nei tempi più recenti a ortona abbiamo avuto anche un coro diretto da don vincenzo e sia i ragazzi noi della insomma della mia generazione sia quelli un pochino più grandi abbiamo fatto parte di questo coro e don vincenzo veramente ha tirato fuori il sangue dalle rape perché comunque noi non conosciamo la musica non la conoscevamo però lui con la sua grande passione la sua dedizione ci ha fatto fare delle cose incredibili ecco io ricordo con con piacere anche con nostalgia e anche con commozione i nostri piccoli concerti che facevamo insieme a don vincenzo alla fine della della processione del venerdì santo e ecco ci riunivamo a casa di don vincenzo per le prove ed è stato un periodo molto bello perché appunto stavamo insieme e ci preparavamo per questo appuntamento per noi molto importante e don vincenzo ci ha fatto amare questa questo questo aspetto appunto della musica appunto il canto ce l'ha fatto entrare dentro e ancora oggi cerchiamo di portarla avanti come possiamo e ecco appunto ritornando al coro della chiesa oggi siamo rimasti in poche però noi continuiamo questa tradizione anche se non abbiamo più chi ci accompagna cantiamo a cappella noi diciamo che cantiamo a secco però ecco voglio ricordare anche suor linda perché suor linda noi bambine abbiamo cominciato a cantare con lei e suor linda appunto ci accompagnava nel canto con il vecchio armonium che era in chiesa e quindi sin da piccola abbiamo coltivato questa possiamo dire passione questo interesse e suor linda ha gettato anche un seme un seme che appunto ha insegnato a suonare a tante ragazze ortonesi per esempio che si sono poi alternate nel nell'eseguire la musica in chiesa ricordiamo renata castrucci letizia del capraro silvia puglielli e ivana d'alessandro fino ad arrivare a alla nostra francesca che ci ha accompagnato fino a qualche tempo fa ecco un aspetto questo a me sembra sembra tanto bello insomma ecco e poi abbiamo ecco continuiamo ancora oggi nelle feste più importanti a cercare di insomma di portare la musica ancora nelle nostre feste ultimamente ci accompagna la nostra maestra giovanna pace che ci aiuta nelle nostre feste più importanti e ecco questo è io trovo che sia molto 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 carino da ricordare però abbiamo avuto anche una cantante professionista ortonese la nostra Elisa Asci che era una componente del coro dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma e appunto Elisa è stata una cantante per tutta la vita e io ricordo quando il coro dell'Accademia di Santa Cecilia andava all'estero e veniva il concerto veniva trasmesso dalla televisione Pierina ci avvisava Pierina era la mamma di Elisa ci avvisava avvisava il vicinato ci diceva oggi c'è Elisa in televisione mi raccomando vedetela io ero lì appiccicata al televisore e cercavo di vederla e ecco insomma è molto molto bello ricordare anche l'attività di Elisa nell'ambito della musica e ecco io spero di non aver dimenticato nessuno e comunque ecco voglio dire questo che comunque anche la musica è stata importante per Ortona e la musica è importante è un linguaggio universale è cultura è stare insieme insomma è tante cose oltre alla piacevolezza che ci dà ad ascoltare appunto la musica scusami Marina permettimi di ringraziare le signore del coro che sono sempre presenti non solo nelle grandi occasioni sto parlando di te, di Berta, Elvia, Letizia, Francesca, Santina, Silvia, Siria, Tiziana Di Iacopo e Tiziana Conte e poi non possiamo non citare con grande affetto Amalia che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa e alla quale va un nostro affettuoso pensiero voglio anche ricordare che a Ortona abbiamo avuto un bel coro folcloristico che ha svolto un'attività per diversi anni il coro folcloristico di Ortona era diretto dal maestro Giovanni del Grosso di Pescina e abbiamo fatto tante cose belle insieme abbiamo fatto diversi concerti noi siamo anche andati in tournée insomma nei vari paesi della zona il coro ricordo che ci assorbì molto sia nella costituzione del coro proprio perché era un'associazione e anche per la realizzazione dei costumi fu molto bello quel periodo e decidemmo di realizzare i costumi uguali identici al vestito da lavoro delle donne ortonesi e venne fuori veramente una cosa molto bella questi vestiti colorati con le gonne a pieghe era veramente molto bello ecco ci accompagnava sia Cristian Taglieri con la fisarmonica e sia un nostro amico di Pescina Rossano lo stesso con la fisarmonica fu un periodo bello impegnativo però molto bello poi purtroppo il coro per mancanza di componenti fisici ecco venne a mancare un po' la struttura stessa del coro e purtroppo abbiamo dovuto chiuderlo però ecco fu molto bello sia parteciparvi sia organizzarlo e abbiamo avuto anche delle belle soddisfazioni dal nostro coro folcloristico io ricordo di una band allora si chiamava un gruppo, un complesso ortonese dai Pietro questo lo devi raccontare per quanto riguarda la musica qui a Ortona posso ricordare i brani che venivano cantati il Venerdì Santo in quanto ho fatto parte anch'io del coro diretto con grande maestia da Don Vincenzo ricordo benissimo lo Stabat Mater il Miserere Popule Meus Ovo Somnes tutti rigorosamente in latino li ho ancora tutti stampati nella mente devo aggiungere però qualcosa di molto curioso pochissimi credo ricorderanno ad Ortona un gruppo di musica leggera verso la fine degli anni Sessanta erano quelli gli anni delle band dei complessi come si chiamavano c'erano i Beatles inglesi i Giganti grandi i Dick Dick i Camaleonti e tanti altri qui a Ortona si costituì un gruppo formato da ragazzini dal nome a di poco impressionante i The Black Men ovvero gli uomini neri gli elementi del gruppo erano Ernesto Silvagni voce e percussioni Gianfranco Silvagni si scimentava con uno xilofono poi c'era Pino Buccella alla batteria ed infine io chitarra e voce il gruppo fu una meteora durò circa un paio di anni ma fu un bellissimo sogno Pietro scusami ma questa passione poi l'hai coltivata l'hai maturata l'hai portata avanti? beh io fino a qualche anno fa ho continuato seppur privatamente con l'armonica e chitarra a storpiare ad arronzare come dico io i brani musicali tu ne hai ascoltato qualcuno dovresti essere tu a giudicare ma dunque più che io allora approfittiamo degli amici di prima pagina Pietro un frammento facci ascoltare un frammento e poi nei commenti gli amici ci diranno due ragazzi nel corpo cresce una po' in fretta con un'unica passione per la vicinetta uniclo giunti i destini in una strana storia di cui nei giorni nostri si attrasa alla memoria una storia d'altra dei tempi di prima dei morti quando si corbeva per rabbia o per amore tra rabbia e d'amore io ti spacco già a creare e chi sarà il campione già si capisce vai girare nuova ai grandi campioni nessuno ti segue su quello stradone vai girando e non si vede più stante è sempre più lontano è sempre più distante penso di essere stato tra i pochi ad avere già ascoltato qualche tua registrazione adesso saremo in tanti però agli amici di prima pagina il commento finale anche questa puntata è arrivata alla fine abbiamo cercato di farvi compagnia evidenziando una parte di cultura ortonese è vero che anche in altri luoghi ci sono musicisti cultori ed estimatori di musica ma a noi piace evidenziare i nostri paesani un po' di sano campanilismo concedetecelo dai come sempre se la puntata è stata di vostro gradimento vi invitiamo a lasciare un mi piace e un commento arrivederci alla prossima ciao ciao a risentirci iscriviti al canale grazie a tutti